Il mistero di Elisa Lam, una tragedia al Sissel Hotel. Introduzione. Il caso di Elisa Lam, una studentessa canadese di 21 anni, rimane avvolto nel mistero e nell'intrigo, anni dopo la sua tragica scomparsa e successiva morte all'hotel Sissel di Los Angeles. Questo articolo esplora i dettagli conosciuti del caso, le teorie emerse e il contesto storico dell'hotel, noto per il suo passato inquietante. Il contesto. Elisa Lam, in viaggio negli Stati Uniti, ha fatto il check-in all'hotel Sissel il 28 gennaio 2013. L'hotel, situato nella turbolenta zona di Skedvo a Los Angeles, ha una storia macchiata da omicidi irrisolti e ospiti nefasti, compresi serial killer. La sua storia ha contribuito a generare speculazioni e teorie su ciò che è accaduto a Lam. La sparizione e il ritrovamento. Lam, che manteneva contatti giornalieri con la sua famiglia, smise improvvisamente di comunicare il 31 gennaio, il giorno in cui avrebbe dovuto lasciare l'hotel. La sua famiglia segnalò la sua scomparsa alla polizia. Il suo corpo fu scoperto il 19 febbraio in uno dei serbatoi d'acqua dell'hotel, dopo che gli ospiti si lamentarono di problemi con l'acqua. La sua morte è stata dichiarata un incidente, causato da annegamento. Il video dell'ascensore. Una parte fondamentale dell'indagine è stata un video di sorveglianza dell'hotel, che mostra Lam comportarsi in modo insolito in un ascensore. Il video ha attirato l'attenzione internazionale e ha portato a varie teorie, alcune focalizzate su possibili attacchi o attività paranormali, mentre altre suggerivano che Lam potesse essere in uno stato psicotico a causa del suo disturbo bipolare. Le indagini e le teorie. Nonostante l'ampia copertura mediatica e le indagini, molti aspetti della morte di Lam rimangono irrisolti. La polizia non ha trovato segni di gioco sporco. Gli esperti hanno suggerito che Lam potrebbe essere stata in uno stato psicotico, forse aggravato dal non aver assunto i suoi farmaci prescritti. Il rapporto di autopsia ha confermato la presenza di farmaci per il disturbo bipolare nel suo sistema, ma ha escluso droghe o alcol. L'eredità di Elisa Lam. La storia di Elisa Lam ha lasciato un segno indelebile e ha sollevato domande sulla sicurezza degli alberghi, sulla salute mentale e sul trattamento dei casi di persone scomparse. Documentari e articoli continuano a esplorare il suo caso, cercando risposte che forse non saranno mai completamente trovate. Conclusione. Il caso di Elisa Lam resta uno dei misteri più insondabili della storia recente. Mentre la sua morte è stata ufficialmente classificata come un incidente, le circostanze che hanno portato a tale tragedia continuano a stimolare dibattiti e teorie, riflettendo la complessità degli aspetti umani e sociali coinvolti.